Sindaco, oggi questa assemblea di cooperative, quanto è fondamentale per Roma partecipare a un evento così? Il mondo della cooperazione è un protagonista fondamentale di un modello di economia e di società inclusivo, coeso, che punta alla cura, alla cura delle persone, alla cura del territorio. Quindi è importante che le cooperative siano in campo anche a Roma rispetto ai nostri strategie di sostenibilità con le comunità energetiche, di welfare di prossimità, con la coprogrammazione, con la coprogettazione, di sostegno all'educazione, con il rafforzamento degli OEPAC. Insomma, su tutti i fronti, in un grande schieramento largo sociale, basato sullo sviluppo inclusivo e sostenibile, il mondo della cooperazione deve giocare un ruolo da protagonista. Senta, il maltempo ha mostrato delle difficoltà che Roma ha da sempre, certo non è colpa sua. Cosa sta facendo l'Aggiunta Comunale per cercare di recuperare questi problemi che si sono venuti a creare con le otto bombe d'acqua di cui lei ha parlato? Innanzitutto bisogna riconoscere che stiamo parlando di eventi estremi, non sono eventi usuali. La quantità di acqua che precipita con queste bombe d'acqua è assolutamente fuori dal comune, anche se stanno diventando fenomeni ricorrenti. Quindi bisogna sapere che questo richiede interventi straordinari, non semplicemente quello che già abbiamo fatto e stiamo facendo, la manutenzione, la pulizia delle caditoie, la votatura degli alberi. I numeri sono molto alti di quello che è stato fatto e anche per questo si sono evitati danni peggiori. Però di fronte a una quantità di acqua di quella portata ci sono problemi più ampi che riguardano la portata del sistema fognario e per questo il nostro piano acqua sulla sicurezza idrogeologica è un piano gigantesco da quasi 2 miliardi di euro che stiamo mettendo a terra proprio per affrontare questo grande tema di renderci più resilienti di fronte anche a fenomeni come questi che stanno diventando sempre più ricorrenti. Grazie. Grazie.